Dobbiamo preparare il video. Ecco, siamo qui a Bazzacarola con il frontman di Terramurra. Salve, prego, a lei la parola. Vorrei sfatare l'illusione che si è rinnestata nella mente di qualcuno dove evitare spiacevoli intendimenti che potrebbero fuorviare le mosse di qualcuno. Ve lo vuol dire che sono tornato. O meglio, che non me ne sono mai andato. Mi ero soltanto preso un periodo di pausa perché non mi ritrovavo. Siccome non sapevo quale isola scegliere per poter avviare questo percorso di riflessione avevo sbagliato l'isola, l'avevo fatta a Libri. Mi sono ritrovato perfettamente a Paradea. E da qui ho capito come dovrò muovere i miei futuri passi nell'ambito artistico. Siccome l'arte è una forma diversa di respiro dell'anima, l'anima e la mia anima è stata messa per molto tempo a tacere. Adesso è giusto che ne sovrì. E che di questo respiro ne gode il mio pubblico. Scusa, da Panarea cosa parte? Cosa inizia? Panarea praticamente dove, come dicevano i greci, tutto scorre, Pantarei. Panarea parte tutto. Nulla è stabile. Qualsiasi progetto viene messo in piedi qua, alla fine destinato per essere fruibile al mondo. Questo è il senso di Panarea. Un posto così piccolo che è il centro praticamente artistico al quale poi si dirama verso tutto il resto del mondo. Sto capito. La signora Carola. La signora Carola, oggi da qui parte una festa dove da inizio pure un progetto. Frontemen Libio e Teranio. Sponsor il Bardacarola. Sponsor il Bardacarola. Con Carola. Con Carola. E' svento. E' svento, Alina.